Ben trovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste le notizie flash provinciali del 16 giugno curate dalla nostra redazione. Enna, clamorosa vittoria per il candidato sindaco Maurizio Di Pietro che nel balottaggio ha battuto il suo rivale, Vladimiro Crisafulli. Alla vigia l'ex senatore del Partito Democratico, partiva favorito, ma gli ennesi hanno scelto di premiare il neosindaco Di Pietro con quasi 7500 preferenze, pari al 52% dei voti validi. Si ferma sotto quota 7000 il segretario provinciale del Partito Democratico, Crisafulli, con il 48% dei consensi. Nicosia e il sindaco Luigi Bonelli hanno nominato i quattro assessori della sua giunta. Come annunciato si tratta di Anna Maria Gemellaro che ricoprirà il ruolo di vicisindaco, Ivan Bonomo che avrà le deleghe allo sport e turismo, Giovanni Farinella che si occuperà di agricoltura e della frazione di Villadoro e Maria Giovanna Scancarello che si occuperà dei servizi sociali. Le deleghe non sono state ancora definite in quanto si cerca un riequilibrio tra i diversi assessori. Da definire infatti anche le deleghe che lo stesso sindaco tratterrà per sé. Con questo atto l'aggiunta è nel pieno delle sue funzioni e può deliberare. Enna, c'è un tredicesimo destinatario del fermo di indiziato di delitto emesso dalla direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta. A conclusione delle indagini svolte dalla sezione criminalità organizzata e straniera della squadra mobile di Enna e dal personale del commissario di pubblica sicurezza di Nicosia nell'ambito dell'operazione antimafia Discovery. Si tratta del 22enne Mirko Moncalieri indagato nell'ambito del medesimo procedimento penale per avere in concorso con altri preso parte alla consumazione di una rapida all'interno di una gioelleria di Troina specificatamente effettuando il controllo delle aree intorno alla gioelleria e predisponendosi per consentire la fuga dei tre esecutori materiali ed ancora per avere in concorso con altri portati illegalmente in luogo pubblico più armi da sparo anche clandestine. In entrambi i casi con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso Cosa Nostra. Il Moncalieri trovandosi in Germania per motivi di lavoro era sfuggito alla cattura nel corso della menzionata operazione Discovery eseguita nelle prime ore della mattinata dell'11 giugno. Tuttavia per il tramite del legale di fiducia aveva fatto sapere di volersi consegnare alla polizia di Stato. Così gli agenti della squadra mobili di Enna unitamente a personale dell'ufficio di polizia di frontiera in servizio presso l'aeroporto di Catania Fontana Rossa lo traevano in arresto presso il predetto scalo aereo allorché il Moncalieri di rientro dalla Germania faceva ingresso nell'area aeroportuale. Enna un gesto di buonsenso che non deve essere inteso come atto di solidarietà così il commissario straordinario della ex provincia di Enna Pietro Lomonaco che ha deciso di rinunciare la sua indennità. Con il massimo della discrezione Lomonaco tiene a precisare che è solo una minima parte di un grande problema che non posso risolvere personalmente ma che voglio contribuire a portare avanti sul tavolo della politica regionale. Anche se i dirigenti si adeguano e con una nota indirizzata al vertice dell'ex provincia comunico che vista la criticità della situazione finanziaria che potrebbe portare gravi ripercussioni sul personale in particolare su quello a tempo determinato in osseguio ai principi di equità e solidarietà mettono a disposizione delle somme relative agli importi che saranno corrisposti a titolo di risultato per l'anno 2015 a valere sul bilancio 2015. In assenza di bilancio sono a disposizione appena 125.000 euro per far fronte alle funzioni principali in capo all'ex provincia che riguardano la viabilità, 1.100 km di strade provinciali, la manutenzione e gestione delle scuole e i servizi per portatori di handicap. Servizi che qualora la situazione finanziaria non si assesti e non si risolva non potranno essere garantiti nei prossimi mesi relativamente alle scuole già all'apertura del prossimo anno scolastico. Cerami, giovani musicisti in erba delle classi prima, seconda e terza ad indirizzo musicale della scuola media di Cerami hanno approfittato del prestigioso teatro di Mascaluccia per mettere alla prova il loro talento, la loro passione nella dodicesima edizione del concorso nazionale musicale tutt'arte 2015. Davanti ad uno giurì altamente qualificato a contatto con il pubblico delle grandi occasioni, l'orchestra Keramos, anticonome di Cerami, formata da 25 alunni, ha vinto il primo premio del Festival Nazionale sbaragliando la concorrenza dei complessi musicali provenienti da altre serie scolastiche d'Italia. I ragazzi di Cerami, rivelatisi big della musica, hanno per di più in anellato una serie di dimensioni speciali e di altri premi vinti in assoluto da solisti, Elisabetta Pirrello, Giorgia Loibiso, Melania Gagliano, Lavinia, Intili, che si sono cimentati come dei grandi professionisti dell'arte del loro strumento preferito. Volano delle vittorie portate a casa dagli allievi musicisti, la sapiente guida gli insegnamenti impartiti dai docenti Luigi Casabona, maestro di pianoforte, da Vincenzo Tamburello, maestro di clarinetto e fiati, da Davide Santonocito, maestro di percussioni, da Maurizio Scaminante, maestro di chitarra. Con capacità e bravura straordinarie la formazione musicale si esibita su note classiche intramontabili e partiture moderne. Con contagiosa simpatia l'orchestra ceramese, con le qualità virtuosistiche di chitarre, pianoforti, sax, clarinette e percussioni, è stata ripagata da applausi a non finire e dalle onorificenze superbe e massime riportate nell'ambito del Festival Nazionale Tutt'Arte 2015. E con questo abbiamo concluso il video appuntamento alla prossima edizione dell'Unice Flash curata dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione chiocciolatelenicosia.it Un saluto da Sergio Leonardi www.telenicosia.it